come va? benissimo siamo qui a pieste con la mia amorevole sofia super dolcissima ragazzina come ti senti? benissimo sembra di essere in paradiso quasi come a bali e ieri com'è andata il mare? benissimo abbiamo fatto la grotta con la sorgente con l'acqua ah quindi sei andato alla grotta bene il bagno due tre bagni e siamo stati in compagnia siamo divertiti parecchio no? abbiamo conosciuto questa nuova forma di essere felici più felici diciamo molto più felici di stare un po' in compagnia con belle persone una bella vibrazione una bella visione del futuro positiva futuristica e bene e tu sofia? io bene ciao ciao benissimo oggi e oggi facciamo un video per spiegare queste cose qua questa cosa qua questa tienila in mano ecco questa la prodotte è rossa e che cosa senti quando ce l'hai in mano? il corallo corallino il corallo corallino poi 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 la natura è il mare è una bella sensazione di felicità si e con tutti questi barattoli pieni di frutta pieni di frutta del sole del sole vediamo sempre l'equatore da questi coralli questi posti così